Io mi chiamo Vincenzo De Luca, sono governatore in campania che stè, io mi chiamo De Luca Vincenzo, sto sulla poltrona dal 93, mo vi dico adesso che faccio, vi rinchiudo con il catenaccio, sto facendo una tabula rasa, chi esce di casa sa vero con me, l'altro giorno già chiusi i barbieri, palestra estetista e chi vende caffè, mo mi mancano quattro negozi, li avevo già chiusi se fosse per me, alla sera mi assetto papale e vi parlo dal telegiornale, i consigli che da convincenzo, se siete in campania la vita sapevo, Sta da casa perché, la campania ce l'ha da fa' Caricette cadate, vicinze portate, pacienze ciuncate vallà, prima pagina, cento contagi, novanta decessi e lo stato che fa' si costerna, si indigna, si impegna, indanda tra poco un putin magna' Aspettiamo il decreto di conte e vediamo se lui ci risponde, ma se parla di Luca Vincenzo ha molti consensi e vi spiego perché, un galantuomo che ha chiuso i baretti, vi fate lo spritz negli appartamenti, la passeggiata nemmeno perdona, ti devi ciuncare su quella poltrona, e se scendi per fare le cuffecchie, tieni la capa per spartare il recchio, con rispetto siamo al giorno tre, ancora non sa vita che la vita avrà Sta da casa perché, la campania ce l'ha da fa' Caricette cadate, vicinze portate, pacienze ciuncate vallà Sta da casa perché, come in carcere a vita sta' Soprattutto se siete a Milano, va aspetta a stazione ciuncate vallà Dai a noiraum Soprattutto se siete a Milano Soprattutto se siete a Milano Está perfamare il resto Soprattutto non paure Gaiaol Chiara Grazie.